Questo è il servizio, il servizio che abbiamo realizzato nel primissimo pomeriggio. Vediamo. L'esportazione del vino è cresciuta del 7% raggiungendo la cifra record di 5 miliardi di euro. La brutta notizia è che in questo settore anche le frodi sono cresciute, più 102%. E ora i carabinieri di Siena hanno sequestrato decine di migliaia di bottiglie di Brunello di Montalcino contraffatte. 30 mila bottiglie di vino contraffatto, questo è un grande danno per il vino ma anche un grande danno per tutto l'agroalimentare italiano? Sì, perché il vino sappiamo essere il prodotto più esportato, l'italiano più esportato nel mondo e quindi questo diventa un'immagine del nostro paese che assolutamente diventa deleteria. Le frodi alimentari, oltre a colpire le immagini dei prodotti tipici, sono un danno per l'economia ma soprattutto per la salute dei cittadini. Nel 2013, secondo i dati della Commissione Agricoltura della Camera, solo nel vino sono stati oltre 10.000 prodotti con marchi di garanzia dal DOC all'IGP controllati e oltre il 10% è risultato irregolare. La spia di come questo settore di mercato sia nel mirino dei truffatori. Le leggi tutelano abbastanza i nostri prodotti o servono altri interventi? Ma noi crediamo che l'impianto legislativo italiano sia un impianto importante e sufficiente. Ci piacerebbe però che chi viene pizzicato in questo tipo di situazioni, ovvero facendo della contraffazione, non possa più rientrare nello stesso settore. Il Consorzio del Brunello, sottolineando gli sforzi fatti per la tracciabilità dei prodotti, ha annunciato che si costituirà parte civile contro chi ha realizzato la truffa.